Ho avuto l'occasione di incontrare tantissimi amici, sinceramente anche più di quanti io mi aspettassi. Voglio proprio ringraziare questa bella partecipazione di molte persone di Fano, ma molte persone anche della vallata del Metauro, anche da comuni come Urbino e anche ancora più dell'entroterra. Quindi le ringrazio molto e devo dire che ieri sera anche il candidato presidente Acquaroli, sul quale io non avevo alcun dubbio che sarebbe piaciuto ai tanti intervenuti, ha fatto davvero una splendida figura con la sua schiettezza, con la sua simpatia, con la sua umiltà e anche con la sua capacità. È stato proprio bravo Francesco Acquaroli. Ha spiegato lei anche quali sono state le motivazioni che l'hanno portato ad accettare questa candidatura consigliere per le prossime elezioni regionali e quali sono le ragioni principali? Le ragioni principali partono ovviamente da una convinzione di un'esigenza di ricambio del governo regionale. Per la stessa missione dell'attuale maggioranza di centrosinistra c'è un fallimento di questa amministrazione regionale. Per salvarsi un po' la faccia hanno cambiato il presidente, che a me sinceramente piaceva più quello che c'era prima di quello che propongono ora, ma il resto è rimasto lo stesso, le stesse persone, le stesse partite, le stesse idee, gli stessi metodi. Quindi questo è un qualcosa che noi non possiamo più da marchigiani sopportare, i terramotati ancora in giro per gli alberghi e i camping della costa, l'afano grosseto che è rimasta lì e chissà per quanto ancora ci rimarrebbe se non ci si mette le mani, la sanità distrutta in questa provincia completamente, soprattutto in gran parte del territorio, in favore di un ipotetico ospedale unico che non si è fatto e non si farà. Conseguentemente non è più possibile mantenere questa situazione. C'è una supponenza da parte del governo attuale regionale, cioè della sinistra, di dire solo noi siamo capaci a governare e quindi non ci potete mandare via. Non sono stati capaci di governare e quando si prende atto che c'è una incapacità è giusto andare ad un ricambio. Perché il candidato presidente Acquaroli mi ha cercato? Perché ritiene che con la mia esperienza di sindaco, di persona, di uomo, di persona che in qualche modo sta sempre, questo lo so, è così, con i piedi per terra, sto molto serenamente al servizio delle persone, al servizio della cittadinanza da persona normale, non mi sono mai montato la testa, non sono stato mai uno che ha fatto gli uvori pindarici, ma sono una persona molto tranquilla da questo punto di vista che però in qualche modo ho sempre dimostrato attenzione ai territori, ai cittadini e anche magari, perché no, qualche capacità poi per dare le risposte necessarie. Che cosa risponde a chi critica il suo eventuale abbandono anticipato e l'incarico di sindaco? Intanto io oggi sono un candidato che non abbandono un bel nulla, ma do un contributo alla vittoria del centrodestra nella regione Marche e porterò avanti questo ricambio di governo. Se poi dovessi risultare eletto dopo il 20 di settembre, il mio vice sindaco e di miei assessori e l'attuale consiglio comunale continueranno le attività fino a qui portate avanti, le porteranno a compimento fino alla prossima primavera e alle prossime primavera ci saranno le elezioni. Quindi nulla, diciamo così, di particolarmente dannoso. Un anno, sinceramente, in anticipo di elezioni, questo sì per quel che riguarda Colli e il Metauro. Io credo che in questi tre anni le persone che mi sono state vicine e sono cresciute insieme a me daranno le risposte sufficienti al buon governo anche in futuro di Colli e il Metauro, qualora io dovesse essere eletto. Grazie a tutti.